Buonasera a tutti, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con le comunicazioni legate all'emergenza, le decisioni che stiamo prendendo in questi giorni, un po' per fare il punto della situazione, parto come al solito dai numeri, sono 26.379 le persone positive in Regione Emilia Romagna, 104 più di ieri, anche questo è uno dei numeri più bassi in assoluto in termini di incremento dei contagiati nella propria regione, a fronte di un numero di tamponi che ormai si assesta dall'inizio, sono 211.652, ma ormai si assesta tra i 4.000 e i 5.000 tamponi ogni giorno, vi ricordo che sono ricompresi tra questi tamponi anche tutti i cosiddetti tamponi di verifica rispetto alla questione del doppio tampone negativo che segna l'uscita definitiva dal percorso Covid. Tant'è vero che sono 14.251 le persone guarite dall'inizio della pandemia a cui si aggiungono ovviamente quei malati che sono in via di uscita e quindi non hanno più la parte sintomatica, questo porta a un numero di guariti che eccede il numero dei cosiddetti infetti attivi di 5.860 unità, cioè sostanzialmente sono 5.860 in più le persone guarite rispetto ai malati cosiddetti effettivi. È un dato molto importante, lo ricorderete circa una settimana fa eravamo qua a celebrare quel famoso sorpasso nei numeri che definiva qualcosa di fondamentale. Sono molti positivi anche i dati relativi alla pressione sul nostro sistema sanitario, si sono liberati 101 posti all'interno delle strutture ospedaliere della regione Emilia Romagna Covid, si sono ulteriormente liberati 15 posti nelle terapie intensive. Anche questo sapete, io lo calco tutte le volte perché è il numero fondamentale che segna la nostra capacità di resistenza a quello che è oggigiorno il quadro di infezioni più in generale. Modena sale a 3.766 persone positive, sono 8 in più in tutta la provincia di Modena rispetto alla giornata di ieri. Qua diamo una prima notizia estremamente positiva, oggi a Carpi nessun nuovo positivo. Rimaniamo quindi a 512 positivi, è un dato importante, non avere nessuna positività in più nella giornata di oggi, lo reputo un dato assolutamente positivo. Purtroppo dobbiamo registrare la perdita di una persona ancora rispetto alla nostra comunità che porta 62 decessi dall'inizio della pandemia. Lo dico sempre, è una persona, poco importa se questa persona fosse anziano o con altri problemi eccetera, è una persona in meno nella nostra comunità e dobbiamo riflettere sul fatto che insomma questa pandemia sta lasciando nei fatti, oltre che un grosso cambiamento del nostro modo di vivere, di stare assieme perché la stiamo combattendo dall'altro punto di vista, ci fa perdere persone che sono sempre state in questa comunità parte attiva e non posso che rappresentare tutti quanti nel momento in cui dico che ci uniamo a tutti coloro che hanno perso un proprio caro all'interno di questo percorso così difficile e così lungo che stiamo vivendo. Da domani alcune importanti novità. Da domani è uscita oggi una ordinanza regionale che sostanzialmente puntualizza alcuni elementi che sono penso assolutamente interessanti. Noi in questi giorni ci stavamo muovendo per costruire i cosiddetti accordi bilaterali, tant'è vero che ne avevamo firmato uno oggi pomeriggio col comune di Rolo ed erano in ITER quello con Rio Saliceto e col comune di Correggio, ma l'ordinanza regionale ci dice che ci si potrà spostare non solo nell'ambito provinciale ma in tutta la regione. Quindi sostanzialmente i nostri accordi bilaterali con i comuni di confine vengono sorpassati da questa ordinanza regionale. Si può fare la spesa in auto soli ovviamente o accompagnati in auto da dei conviventi per fare la spesa. Questo lo chiedo perché sapete che c'è stata tutta la querelle davanti, dietro, di fianco dove deve posizionarsi una persona in macchina. Ve lo permetterete, lo trovo abbastanza di buon senso se due persone condividono una casa possono condividere anche l'abitacolo dell'automobile. È consentita l'attività sportiva a patto che sia ovviamente sempre all'interno del non contatto personale nelle strutture e circoli sportivi all'aperto con il rispetto ovviamente del distanziamento e di quelle situazioni igienico-sanitarie. Quindi o vuol dire la corsa e un'altra serie di attività che però non prevedono un contatto o il non rispetto del distanziamento. Rimangono ovviamente chiusi spogliatoi, palestre, piscine e gli altri luoghi di socializzazione che sono quelli più ad alto rischio rispetto all'opportunità di espandere l'epidemia stessa. Ora alcune velocissime riflessioni. Sono 90 mila le mascherine che la protezione civile sta imbustando all'interno degli spazi della protezione civile. Sono tre per ogni famiglia. nella prossima settimana, verso la fine della prossima settimana comincerà la spedizione direttamente a casa, quindi ve le troverete all'interno della buchetta delle lettere. Sono 60 mila che sono arrivate dalla regione. Le altre sono state le varie donazioni e le altre situazioni che hanno concorso a permetterci di avere un numero di mascherine chirurgiche che possiamo appunto distribuire a tutta la popolazione. Stamattina vi ho dato già informazioni di una scelta che abbiamo fatto in giunta e che sottoporremo appena arriveremo alla fase di rendiconto del bilancio comunale. Voglio essere ancora più preciso. Nei giorni scorsi sono giunte, al di là della manifestazione, anche sollecitazioni, in particolare da Rete Imprese Italia che ha segnalato le problematiche legate a un pezzo del mondo dell'economia molto particolare che è quello che oggi fa riferimento al tema del commercio e dal piccolo artigianato. Vi erano alcune richieste di difiscalizzazione che sono poi state riprese da vari attori. In pochissimo tempo abbiamo cercato di fare una simulazione di quanto significasse questo in mancato e introito per l'ente locale in termini fiscali. Questo ci ha portato a trovare una cifra attorno ai 930 mila Euro, quindi l'impatto di questa eventuale mancata entrata sarebbe attorno ai 930 mila Euro. Questo scorrendo quello che è l'attività che stiamo facendo dal punto di vista ragionieristico che ci porterà a determinare l'avanzo del Comune di Carpi e anche ovviamente dell'Unione dei Comuni, ci fa pensare ovviamente e lo confermo che si potrà attuare questo modello di difiscalizzazione con una premessa che è fondamentale. Stiamo leggendo sui giornali che nel cosiddetto decreto maggio in preparazione da parte del Governo vi potrebbero essere gli spazi appunto per manovre direttamente nazionali di questo tipo di difiscalizzazione. Qualora queste si verificassero noi siamo pronti a mantenere comunque quella cifra per permettere di utilizzare le risorse e vedremo la modalità che vorrei fosse oggetto di concertazione e di dialogo con le parti sociali, ovviamente associazioni di categoria e sindacati al fine di creare uno strumento che aiuti in particolare la sicurezza nei luoghi di lavoro perché diventa la grande sfida oltre a un tema stringente legato a la liquidità e la mancanza di liquidità a quelle imprese vi è tutto il tema della ripresa non soltanto in termini di riapertura delle serrande ma di quello che accade dentro quei locali nella sicurezza reciproca, nella sicurezza di chi ci lavora dentro, nella sicurezza dei dipendenti. Ovviamente noi intendiamo questo intervento non come un intervento a solo una categoria ma a una filiera perché ovviamente questo deve dare l'opportunità di muovere tutto il resto del percorso economico che sta dietro e di compreso la parte produttiva. Avere le risorse per pagare i fornitori significa pagare lo stipendio di persone che lavorano nell'altro ambito e che ovviamente se non hanno la parte commerciale attiva lavorano senza poter vendere il prodotto stesso, mi sembra abbastanza naturale ricordarlo. Non è l'unico impegno che ci prendiamo, questa è la parte che è necessario dire in questo momento per dare un messaggio chiaro a chi oggi sta facendo le proprie riflessioni e ci ha dimostrato anche una propria angoscia rispetto alla giornata della riapertura del 18. Non è soltanto una riapertura ma sarà una sfida collettiva rispetto al tema della sicurezza. Le altre risorse dovranno far parte di un ragionamento che ribadisco, quelle che si determineranno, sono sempre, vanno sempre nella direzione delle difficoltà che si creano dal punto di vista sociale dalla situazione determinata dal blocco dovuto al Covid. In particolare su due dimensioni, i servizi, noi qua abbiamo il tema dell'infanzia e il tema della non autosufficienza, significa che quello che noi prima davamo per scontato di quei servizi, che al nido si potesse andare in certi modi, al centro estivo si potesse andare in certi modi, a domicilio si potesse andare in certi modi laddove dovevi assistere una persona disabile o non autosufficiente, ci rendiamo assolutamente conto che questi servizi oggi hanno una complessità in più che è legata al fatto che la situazione particolare del Covid, dell'assicurare non infezioni, assicurare strumenti che mettono in sicurezza quelle attività diventa fondamentale. Quindi noi siamo certi che serviranno anche risorse da quel punto di vista. Uno perché qua la politica è quella di non lasciare dietro nessuno, in particolare le persone che sono in maggiore difficoltà e sono deboli e i servizi sono la prima cosa con quale si ridistribuiscono le opportunità, sono il primo elemento di ridistribuzione di opportunità sul nostro territorio, perché sono opportunità per chi lavora ma sono anche la risposta a chi deve cercare da lavorare, cioè sono quelli che tengono sostanzialmente in equilibrio il nostro sistema sociale, il welfare detta come va detta. E dall'altro punto di vista una cosa che oggi non riusciamo a quantificare. Questa cosa che noi non riusciamo a quantificare è cosa succede nel momento in cui se con responsabilità agiamo e ci comportiamo e continuiamo ad avere dati che ci permettono di fotografare questo livello che sostanzialmente è pari allo zero o da questo si discosta poco in termini numerici di propagazione del virus all'apertura delle altre attività. Ecco, è il grande timore, ma io lo dico con, mi permettete, la dico quasi con ingenuità, sapendo che a quella riapertura forse non tutti riapriranno e non ne abbiamo ancora contezza. E ovviamente se c'è qualcuno che nel frattempo, e qualcuno di sicuro l'ha perso il posto di lavoro, perché i contratti a scadenza, perché le persone che si sono trovate sostanzialmente con quelle forme di lavoro flessibile non più richiamate, avranno una necessità di sostegno sociale ed economico. Ecco, noi dobbiamo essere pronti, quindi con la parte di avanzo che si determinerà dalla gestione in quel passaggio economico che andremo a fare, come giunta siamo pronti a dire, spero non da soli, perché penso che questo ragionamento debba coinvolgere anche altri attori cittadini, a dire che noi di quella che potremmo definire, io non sono un amante delle etichette, dei neologismi, ma la povertà Covid, cioè quelli che oggi si trovano in una situazione di indigenza e hanno perso il lavoro a causa non della crisi economica, ma delle crisi indotte dal Covid stesso e quindi sostanzialmente si trova una situazione drammatica, le abbiamo visti, io ribadisco da sindaco, 1800 che sono poi state quelle regolari, 1700 domande soltanto a carpi di borsi alimentari, sono un segnale che non può essere ignorato, significa che 1700 nuclei familiari, ci sarà la famiglia da una persona ma c'è anche la famiglia con più persone, in quelle domande ci sta dicendo che aveva liquidità inferiore ai 5000 euro. Voi capite che in una situazione di questo tipo, determinata in quel momento ci sarà una parte che riprenderà il proprio lavoro, ma ci sarà una parte che probabilmente non troverà immediatamente una risposta dal punto di vista lavorativo e quindi dobbiamo essere anche pronti a fare l'ammortizzatore in quel momento, perché sarà rischioso, perché lì rischiamo veramente di perdere un pezzettino di comunità. Adesso non abbiamo quella quantificazione, fino a che non c'è una, diciamo così, almeno dal punto di vista lavorativo e economico, una riapertura complessiva quello è un dato che non abbiamo in possesso, abbiamo delle sensazioni, abbiamo delle previsioni, ma non possiamo basarci su questo e quindi è evidente che una parte del futuro impegno dovrà andare in quella direzione. Quindi oggi cerchiamo di dare una risposta al mondo delle imprese e del lavoro di piccole dimensioni, sapendo, sapendo che speriamo di essere complementari a scelte che verranno fatte anche nel decreto nazionale. Però ci prepariamo ad avere anche una risposta dal punto di vista sociale a chi si troverà automaticamente escluso per motivi legati alla, diciamo così, evoluzione lavorativa delle proprie imprese. Questo è l'elemento fondamentale per far capire che non si aiuta mai soltanto una categoria. Qua si deve aiutare una comunità nel proprio sistema a stare assieme e qualcuno mi dice che abuso del termine comunità a me continua a dare un senso, perché come spesso si dice, se c'è qualcuno che produce ci vuole qualcuno che vende, ci vuole anche qualcuno che compra. Nel sistema più complessivo questa cosa può stare insieme se riusciamo a capire che di volta in volta vanno messi in campo aiuti e sistemi che concedono ad ognuno di giocare la propria parte. Io spero in maniera positiva, non possiamo immaginare semplicemente un mondo che si ferma o che va con i cosiddetti ammortizzatori sociali. Abbiamo bisogno di dare un senso di ripresa più complessiva, abbiamo bisogno di legare in maniera indissolubile la fase 2 ai termini della sicurezza sui luoghi di lavoro e della sicurezza del nostro modo di stare assieme. Lo dicevo ieri, lo ribadisco oggi, è cambiato un pezzo della vita. In queste condizioni dobbiamo guadagnarci quotidianamente quel pezzo di libertà, quel pezzo di opportunità, quelle dimensioni in più che abbiamo. Devo dire ho avuto ritorni anche positivi dal punto di vista della capacità sociale di fare propri questi comportamenti di sicurezza reciproca. Mi auguro che questo ci guidi verso una fase dove quel livello di responsabilità viene condivisa oggi dal punto di vista della salute domani anche da un punto di vista economico e sociale perché è chiaro ed è evidente che quello che stiamo attraversando una fase assolutamente straordinaria necessita di interventi di tipo straordinario, necessita di interventi di tipo straordinario anche da parte dell'ente locale per quelle che sono le dimensioni dell'aiuto che può dare l'ente locale stesso. Io vi saluto e vi auguro una felice serata. Grazie. Grazie.